Ci sono alcune rovine sulla mappa in cui farlo. Per risolvere il puzzle devi aprire una delle porte che richiede un'offerta. Queste porte richiedono un oggetto di rarità epica o superiore da dare loro. Puoi farlo facilmente alle rovine meridionali poiché Sloan è nelle vicinanze e vende sempre un oggetto epico per 250 lingotti. Entra nelle rovine e dai alla porta l'epico oggetto di rarità per completare questa ricerca per risolvere un enigma in una rovina.